Queste sono le immagini della discarica abusiva sequestrata a Ortona, 130 veicoli abbandonati su 7.000 metri quadri di terreno agricolo. Il reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Pescara, nell'ambito del monitoraggio del territorio abruzzese, ha sequestrato il terreno utilizzato da una società operante nel settore della rivendita di autoveicoli che non ha mai dichiarato redditi al fisco. L'individuazione del sito su cui operava la società è stata possibile grazie ai sorvoli eseguiti dalla compagnia aerea del corpo, nonostante il terreno fosse ubicato ai margini di un'area industriale ben mimetizzata tra l'ambiente bucolico e lontano da occhi indiscreti. Sin dai primi sopralluoghi la tensione dei finizieri è stata tratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate e localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non susciteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica. Alla luce di quanto riscontrato, i finanziari della stazione navale e della sezione aerea hanno bloccato l'illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da 130 veicoli fuori uso di cui alcuni previ di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, cumuli di pneumatici fuori uso, parti di ricambi di autoveicoli, materiali di vario genere, i rifiuti e risultavano in evidente stato di abbandono sul terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuore del fal di acquifere. Così, a conclusione dell'intervento, i militari operanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica il gestore del sito unitamente al proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. Si è inoltre proceduto ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo all'intera area e rifiuti speciali IVI contenuti. L'attività proseguirà con i dovuti approfondimenti degli aspetti gestionali e contabili della società per quantificare le violazioni alla normativa fiscale.